dovrebbe essere partita ci stiamo dirigendo al mercato di Catania oggi ci dedichiamo al pesce cercheremo un pochino di capire cosa vuol dire fare un mercato ittico cercheremo, questo nuovo giù a dentro questo nuovo giù a dentro questo nuovo giù a dentro ancora i geli che necci vassino anche mi scegliamo non amo pello adesso pesce spada pesce spada locale come ce li ho sceglie? prendiamo tutto prego prego c'è una notte io mi sveglio la notte non la metto la notte alle 1 e mezzo alle 2 le vado a comprare il mercato, le patrie e poi le riprendiamo vado a pindi! ha pinto vecchia spara a pindi! io dunque se faccio con una pagna rossa a pindi! io sono Giuseppe e lavoro qua al mercato del pesce noi vendiamo frutti di mare come potete vedere stiamo facendo la polpa di riccio è una prelibatezza siciliana si mangia con gli spaghetti è molto buono sono con la mia famiglia così ci riportano qua a noi non li peschiamo direttamente noi inizia alzandomi verso le 6 e siamo qua si scende qua, si monta il posto poi proviamo a vendere se c'è gente proviamo a vendere poi si chiude il posto per il futuro non lo so mi aspetto un bel futuro però c'è un po' di crisi è pittissimo la pia è buona è buona la lunga è molto lunga signor piccile la leccia è lunga e la lunga è fuori la leccia è lunga e la lunga è fuori dai c'è becchissime questa è l'intervista del piccile da Catania e la manda a dare pescata locale del nostro romano cinese non lo faccio, non lo faccio santa maria la scala, mare più bello della Sicilia chi sta si mangia crura? io la taglio, io la pesco, io la sono la pasta ti metti 15 euro se mi metti un anno qualche non farei spagliare a parare forse che io non puoi inserire questa è netta, non mi chiede di sganciare non mi li steranno forse 12 euro leveci che c'è il bravo non è voluto e mi metti mai il figlio che regno e poi leve non ne vengono più ma che se ne faccio, non ne vengono più non ne vengono più le peschiamo noi questo quello originale, la lunga è bellissima pescato originale a Catania è mare di brugoli brugoli, costa sarachena questo è il pesce buonissimo è la regina del mare questo è un pesce buono poi si deve comprare nei pescatori come me noi peschiamo e noi vendiamo il pesce si deve conoscere dove si compra si deve conoscere dove si compra i pesci da quanti anni? ma circa 25 anni sei giovane però cioè, giovanissimo noi ne prendiamo per giocare questi pesci qual è il pesce che va per la maggiore qua nei mari di Catania? il tonno, i pecchi e spaga abbiamo finito questo è un pesce 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 sei il primo della tua famiglia a fare questo lavoro? si si è il primo e per il futuro cosa ti spegnano? sempre, sempre, sempre pesce sempre pesce fino a che c'è la pappa bianca così come San Giuseppe ahahahahah no, non grâce grazie grazie bene grazie grazie guardia grazie le Grazie a tutti Grazie a tutti